Sì, guarda come è cappotto! No! E' pericoloso! Solo tu e poi dietro la musica... Fabio davanti, dietro... Esatto, andiamo così con The Trucker E abbiamo la banana Ci mettiamo più vicino possibile Fatti fare il caffè di fare Siamo quelle che darei video Siamo quelle che darei video Vado io? Ciao, com'è? No, 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 partiamo da qua No, 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 no Se riesce bene, se no... Ci dà tempo Andiamo piano piano, dietro Adietro 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 Sì Aspetta, non mi lasciate per ultimo però Sì, non servivo Dovevamo prendere uno più alto per fare il video comunque Adietro 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 Ed Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.